Sono Salvatore Arancio, sono un artista visivo che abita tra Londra e Nizza. Mi ritrovo qui a Faenza, una città che conosco da tanti anni, dopo ho iniziato il mio percorso ceramico. Qui per fare un workshop con i studenti di Elisia. Partiremo da delle forme che hanno trovato sia in natura che ispirata dal libro di Leo Leoni, questa botanica parallela a questa botanica fantastica che è raffigurata nel libro. Creeremo delle nuove sculture che, a parte essere delle creazioni artistiche, delle sculture vere e proprie, hanno una funzione. Verranno utilizzate come piedi per tavoli o anche per struttura per le librerie. Quindi sono delle sculture in effetti che verranno anche utilizzate in questa maniera un po' più design. Quando la direttrice Marinella Paderni mi chiese di fare questo workshop, per me era importante, diciamo, mantenere i punti di forza di questo istituto che si concentrano nel design, nella comunicazione, nella progettualità. Quindi il mio workshop ha cercato di combinare questi tre elementi. Dal mio punto di vista riflettere un po' i nostri tempi che, diciamo, hanno delle linee di separazione tra tutti questi vari elementi che sono molto meno netti rispetto in passato. Quindi c'è questo continuo, come dicono in inglese, blaring tra il design, l'arte, la comunicazione e la progettualità di tutto ciò. Quindi il mio workshop intendeva creare questo, diciamo, connessione, questo connubio tra tutti questi vari elementi.